Sì? Uè, bello! Uè, Lucio! Come stai? Eh, ma lo so discretamente, con dignità, con dignità! Ragazzi, tengo due biglietti di omaggio per stasera, per andare al cinema! A vedere? Batman 6! È uscito? La vendetta della vendetta, si dica! Veramente? E effetti speciali! Film che piacciono proprio a te! Eh, proprio su proprio, su bello! Allora, ma che fai? Vieni, no? Su bello! Vieni! A che ora? Eh, quando vuoi tu, eh! Ah, quando voglio io? Eh! Non posso! Come non puoi? Sono fidanzato!